E' molto contento che lei abbia, attenzione, come come sale e mostri bene, nel quadro di amministrazione del turismo con il nostro papà di G.A. che non pò matta e gallina che potevano le ore per l'uva. Ma sale, due giorni passate, critica fortissimo, ora mi ascoltano i ministri del medio ambiente che dice che una febriare ti passa un lei. Nel Parlamento, come come cobrano 35 dollari per la cabeça di ogni turista. E la sale è la vista, non forma incorreta e anche che non è vero, ma non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Il risultato è che mi incontro con il Comitato, che mi incontro con il Comitato e con il Comitato e spero che il Parlamento sia troppo. E' un'altra, inizia, in un'altra, in un'altra, che si può ascoltare, è impossibile. E' una, non è vero che mi incontro un rapporto, ma è fatto di solucionar un problema. Mi compro, non è vero che è solucionato il problema di RBCT, mi è vero, non è vero, non è vero. non è vero che sia un'utili, sia un'instanza privata che può mangiare, ma che forniamo di DOE, ma che forniamo di un'instanza gubernatale. Mi sta applaudendo qui, per il fatto di solucionar il problema, creando un altro problema, una amenenza, non solo un problema, ma per creare una menazza per il turismo. Se c'è un po' di gallina, c'è un po' di oro. Dove chiara cobra un 35 dollari che non è giustificato. Ora, quanto è 35 dollari? Quanto la placa è generata? C'è parte di erva ICT, lo genera, più o meno 40 milioni di florini per l'anno. Poi un po' di un po' di un po' di quattro 40 milioni di florini, per cominciare. Qui ha fatto un studio? Quali parlamentari appunta per un rapport di quale inversione sta per migliorare i RBC? Quando mi ha fatto un ministro, ho fatto un rapport che è come sia 27 milioni. Ah, mi ha fatto come sia 200 milioni. E se è 200 milioni al mese, se è che in 5 anni di tempo, mi ha chiesto di recuperare inversione? Perciò 40 milioni per fare fai di turisti. Quei tour che è in, mi ha comprati di comportare per migliorare la infrastruttura, di quello che ti tratta, il sistema di riolere in RBC che è necessario, mi ha fatto un sostegno, però ci sono, let's not do it the wrong way. Non vanno solucionare ancora, acabando con lo principale che ti stanno mantenendo la vita che non è in RBC. Ora, io voglio cobrare 15 dollari, 35 dollari, per poter privatizzare direttamente le loro fatture. Ora, io voglio tornare a 20 dollari. come poter è possibile che poter una persona che vende da Corso un'interno, in una notte, e anche 20 dollari per la AirVizzi, che poter una famiglia di turisti che hanno 3 giorni di timeshare, o che hanno una casa di Airbnb in RBC. Non c'è la logica. Non c'è la logica, ma che è facile. Se non c'è la logica, è facile. Non c'è la logica, non c'è la logica che non c'è la logica, non c'è la logica che le loro fanno. Ma si saranno comprando per qualcosa con la logica reale, per il servizio che poter un'apprendimento. Ora, io voglio curare 15 dollari per attraversare direttamente le loro fanno, per cosa posso ai c'è la logica di Turista? Non c'è l'attenzione di un servizio di controllare, inspeccionare avionati a l'aroporto di Ansar. Che copre la compagnia. Grazie.